Allora, ciao amici! Voi non lo potete vedere, ma questa qua è Pokémon Lavandonia Remastered del Bano! Mi accingo a provarla, cioè l'ho giocato un'occhiatina veloce veloce, sono rimasto alla stanza di rosso, quindi facciamo un nuovo gioco. Sì, vabbè, l'intro è sempre la stessa e fin qui ok. Questa è una rivisitazione di Lavandonia, la mappa è stata interamente modificata e sono state aggiunti sprite e script. Buono a sapersi. Esplorala e cerca di trovare tutti i cambiamenti riportati. Se vediamo che vi piace in futuro porteremo altre rivisitazioni come questa. Vieni a trovarci sul canale YouTube Banet Official. Lavandonia Remastered 2006, script Lorenzo V, mapping Banet. Il Bano! Pokémon Lavandonia Remastered Red Edition, Leaf Edition presto fuori. Ok, punto punto, punto punto. Personaggio di Leaf non modificato, aspettare la Leaf Edition. Sono un maschio e mi chiamo OrdQTG. Ah, new name. Molto sintetico, tutto chiaro. Non posso giocare ora, devo scoprire dove è mia madre. Ok, però i punti alla fine delle frasi ragazzi, ve lo dico così. Leaf non risponde. Shion Town. Non ho capito. Giornata piovosa qui a Lavandonia. Inoltre, a caso con la maiuscola, abbiamo due strane presenze della torre. Chi saranno? Meglio andare a vedere. Ok. Ma chi saranno queste due presenze? Linea bianca e VBB Credi nei fantasmi senza una maiuscola? Beh, dovresti Beh, virgola, dovresti, punto Perché c'è la musica del Pokéflauto? Sapete che si ferma e non c'è in loop E infatti Lavender Town, la città viola No, ma ditemelo se lo fate apposta a non mettere gli accenti Fuji non si vede più da queste parti Punto Volontari di lavandonia a casa Pokémon Ok E infatti manca Mr. Fuji Stanno succedendo un La pioggia Fuji e le due presenze della torre Non mi piace più stare qui a lavandonia Però le maiuscole e i punti Senza le maiuscole Senza i punti Stai attento Stanno succedendo cose strane qua dentro Ho capito Si chiama Pokémon versione lavandonia Sarà mica la torre quella infestata Leaf con gli occhi bianchi Una pozza di Mestro Il capopalestra è momentaneamente assente Ok Un Rocket col costume viola che fissa lo zaffiro Il mare di Mestro Tutto bene Come va con la congiuntivita signora? Ora che ho finito quella palestra è tutto più tranquillo Ma chissà che fine avrà fatto Silver Eh? Scusami? Ma quella mano bianca sulla spalla? Ah la White Hand Ok Io direi di entrare Ne Torre Pokémon Salvo prima che scela qualcosa Si Grazie Ok Gary Super 4 Medium Marowak Due strane presenze Comparse da nulla per correggere questo presente Assicurarsi la pace in questa città E tutto bene Buona mano Ti tiro fuori Spiderman Scenda però Lorelei Bruno Agata con gli occhi bianchi E poi Poi c'è Lance Medium 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 Pokemon Nere Area di Q Questo cosa fa? Ti sta seguendo Qualcuno ti segue Vuoi vedere che? Eh infatti Adesso faccio diventare nero lo schermo Ogni volta che si fa il fade screen nelle case Diventa sempre più nero lo schermo E questo è bellissimo Come sta il tuo cucciolo? Le due parti devono ricongiungersi Il tempo scorre E la fine è imminente Come avrai notato L'abandonio sta cambiando E purtroppo Questi cambiamenti a tempo debito Si faranno sentire E dilagneranno Questa città E poi Cosa devo fare? Cosa devo fare? Grazie a tutti